Passerà in Consiglio Comunale per l'Approvazione la delibera del Programma di Esercizio e Contratto di Servizio per l'Azienda Municipalizzata dei Trasporti dell'Aquila, AMA, per l'anno 2016. La delibera introduce anche nuovi titoli di viaggio dedicati alla popolazione studentesca. Si tratta di un abbonamento scolastico annuale per studenti con tariffa pari a 202,40 euro, valido dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo, oppure dal 1 ottobre al 31 luglio dell'anno successivo. Nell'abbonamento sono inclusi anche i giorni festivi per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale dell'Aquila. Inoltre si introduce un abbonamento nominativo annuale per studenti con una tariffa pari a 220,20 euro, valido dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, incluso anche in questo caso i giorni festivi, per tutte le linee e per qualsiasi numero di corse nell'ambito del territorio comunale. Lo spirito dell'organizzazione è quello chiaramente di dare un servizio efficiente ed efficace, ovviamente sempre per migliorare quello che sono la frequenza e l'utilizzo da parte degli utenti, che sono tutti quanti cittadini inteso dagli studenti, anziani e quant'altro. L'AMA, inoltre, autorizza la cancellazione del titolo di viaggio di corsa semplice di 1,10 euro, valevole per 90 minuti, con l'introduzione del biglietto orario, valevole per 120 minuti al costo di 1,20 euro. Questo consente chiaramente di avere una maggiore varietà del biglietto e quindi consente anche di risparmiare un biglietto, soprattutto per gli studenti che chiaramente l'utilizzo delle due ore riescono anche a fare laddove si regano presso l'università, per fare incontri di segreteria oppure di studio e quant'altro, riescono alle due ore a risparmiare un biglietto. Per quanto riguarda il parco macchine, l'AMA si avverrà entro il prossimo 2016 di ben otto pullman nuovi.